benvenuto nel bazar atomico un podcast per imparare di tutto da chi ne sa più di tutti mistici scienziati imprenditori eroici maghi filosofi esploratori e artisti uomini e donne straordinarie selezionate per la potenza e la follia dei loro progetti indipendentemente dal numero di followers che hanno io sono davide francesco sada sono l'autore della bestseller la felicità fa i soldi e dal 2010 dirigo l'accademia di formazione finanziaria money surfers la mia vita è sempre sembrata un bazar ho provato di tutto sono stato un wannabe rock star un giornalista un regista e persino un rampante marketing manager e nonostante mi sia sempre impegnato a fondo i risultati che ottenevo erano sempre scarsissimi caduto in depressione iniziai a divorare libri di self help un sacco di fuffa ma poi un giorno in uno di questi lessi una frase di jim ron frase che cambiò la mia vita per sempre non siamo altro che la media delle cinque persone che frequentiamo più spesso fu come un'esplosione atomica nella mia vita non accadeva nulla perché per un mix di superbia e paura di uscire dalla mia comfort zone sociale tendevo a fare tutto da solo o con le persone che conoscevo già quando mi sono imposto di incontrare e collaborare con uomini e donne straordinarie che non conoscevo ancora anche la mia vita è diventata altrettanto straordinaria per questo ho creato il bazar atomico un pretesto per poter continuare a conoscere persone sempre più ispiranti e grazie alla tecnologia condividere i loro insegnamenti con il resto del mondo buone deflagrazioni benvenuti al nuovo episodio del bazar atomico oggi abbiamo ospite davide sisto nato nel 1979 egli insegna presso il master death studies and the end of life dell'università di padova e tiene laboratori di cultura cyborg e realtà aumentata presso l'università di torino nei suoi ultimi saggi si è occupato di rapporti tra il vivente e il non vivente tra il ricordo e l'impossibilità di dimenticare nella nostra vita digitale ed è vincitore di numerosi premi letterari e riconoscimenti accademici prima di iniziare però ti ricordo che come al solito il bazar atomico è prodotto da l'azienda di formazione finanziaria consapevole money surface quella dove lavoro io quella che ho fondato io insomma dove dal 2010 insegniamo la felicità che fa i soldi ebbene si inventa invertendo scusate i fattori il risultato cambia moltissimo vi ricordo anche che la regia è curata da mister giovanni valentini videomaker raggiungibile sul sito giovanni meno trattino alto quindi valentini puntocom che il nostro web wizard in studio e mario piccaluga fotografo raggiungibile su instagram et mario piccaluga e che in studio tra pochissimo berremo solamente caffè fa carnera mi raccomando ragazzi se volete supportare questo podcast iscrivetevi al canale youtube e su tutte le piattaforme presso le quali lo ascoltate adesso però rilassatevi e godetevi lo show bentornato davide eravamo rimasti su su ronnie james dio e le arrivi vi vi vivi why vivi faczione delle persone ma io credo che invece questo pas sarà un business che sicuramente prenderà perché il business se ne fotte di tutto e da quello che la gente istintivamente richiede e ecco tra l'altro sai cosa stavo pensando questa commissione tra realtà artificiale studi della morte eccetera e e algoritmi non so se vi fa pensare a questa cosa se il computer ne sa più di me di quello che sono io e poi mi utilizza utili cioè viene utilizzata la mia intelligenza artificiale per replicare me stesso dopo che sarò morto ma noi e quindi cosa siamo cioè dove siamo noi cioè non so come riesco non riesco più a percepire la mia identità beh tu lo sai che parli con un materialista per me noi siamo una grande massa di informazioni in un in una versione in un simulacro ce ne saranno di meno però noi siamo comunque un grande ammasso di informazioni la sfida è che ce ne saranno addirittura di più cioè saranno molto più come dire interpellabili più velocemente cioè tu hai una serie di informazioni probabilmente forse il cervello prima ne ha molto di più ma non riesce a intercettare tutte come invece riuscirà a farlo bene il computer sì però la dico semplice ma anche quella dimensione in più che viene chiamata l'anima fondamentalmente quella che mario quella che mario per me per me l'anima è un artefatto non è una cosa è una cosa che ci sembra che la complessità sembra che c'è questa cosa perché questo cioè l'elefante nella stanza di questa discussione questa conversazione che stiamo avendo cioè dove siamo noi cioè dalla nostra parte più autentica se viene fatta rivivere attraverso degli algoritmi che ha durante la nostra vita ci hanno conosciuto e sanno più di noi quello che siamo e quindi poi i nostri cari avranno un algoritmo parlando con l'algoritmo ma noi dove siamo in tutto questo già non dove siamo dopo la morte questo non te lo chiedo anche se tu sicuramente lo saprà che cioè c'è scritto death studies questo ce lo devi dire qualche entità te l'avrà detto e se no che cazzo studiate death studies cioè quello è capitolo uno poi dopo ci fai un rito qualcosa però quello teniamo la fine così la gente riunge la cosa che mi veniva da ridire da riflettere quando stavate parlando e che qualche anno fa avevo letto nel 2010 quindi figurarsi oggi uno studio che evidenziava che l'utente medio di facebook pubblica circa 90 contenuti al mese e quindi ai tempi adesso probabilmente meno e se uno ci fa un attimo un calcolo vuol dire che noi chi comunque ha fatto l'uso di facebook nel corso degli anni è il primo essere umano che solo lì dentro ha accumulato qualche decina di migliaia di informazioni di documenti su di sé poi ovviamente bisogna scrimare l'articolo giornalistico il meme stupido via dicendo però ha di fatto siamo i primi esseri umani che in fondo quotidianamente produciamo continua in continuazione dati registrati su noi stessi e questo è di nuovo molto affascinante perché sembra è problematico affascinante perché da un certo punto di vista ci si chiede se perché fondamentalmente siamo arrivati in questa fase storica in cui dobbiamo registrare tutte queste cose perché di fatto come quelli di prima di noi non lo facevano e hanno vissuto benissimo non si sa perché noi dobbiamo produrre tutto questo materiale e dall'altra parte è interessante capire se anche lì non c'è un tentativo di sopravvivere veramente a se stessi cioè in questo anche implicitamente sicuro sicuro però butoli una provocazione noi chi siamo veramente siamo la risultante per noi stessi o la risultante per gli altri perché quello di cui stiamo parlando è un qualcosa che noi comunque facciamo per gli altri poi perché noi non ci saremo più si sta studiando questo infatti quello che volevo dire ok si l'intelligenza artificiale sa tutte le cose legge tutte le cose che ho detto ma no anche che hai comprato che hai guardato che hai scritto ma non che hai sentito che hai toccato però ci sono cose che tu non dirai mai a nessuno e che non scriverai neanche mai da nessuna parte io da quando faccio questo podcast poche perché metto in piazza tutto però c'è da dire che nella fine questo non è molto diverso da quello che si faceva però anche prima nel senso che io una cosa che dico spesso ai miei studenti o anche quando scrivo che quell'idea molto occidentale dell'identità forte è una grande stupidaggine nel senso che ciascuno di noi è un insieme di tante parti faccio sempre l'esempio degli studenti che quando siamo con i genitori la fidanzata l'amante il datore di lavoro i nonni la persona che incontriamo per strada siamo sì c'è sempre un filo conduttore ovviamente però siamo comunque diversi perché con ciascuno è ovvio che dobbiamo recitare una parte oppure nel corso della nostra vita è ovvio che questo la psicologia ce lo insegna che muoiono delle parti di noi stessi ne nascono altre siamo contraddittori si dice spesso che si giudica spesso negativamente la contraddizione l'incoerenza ma di fatto secondo me è molto positiva anzi anche quella può avere una su un suo che di creativo il fatto di sapere che di fa in fondo da quando nasciamo a quando moriamo non necessariamente siamo coerenti con noi stessi e quindi in fondo quello che facciamo sui social fan fa emergere delle parti e non ne fa emergere altre e anche comunque prima dei social quando abbiamo vissuto le altre persone hanno conosciuto dei tratti della nostra identità ma probabilmente prendo che ne so mio nonno tutti hanno conosciuto qualche aspetto ma non avranno mai conosciuto diciamo a degli altri elementi della sua vita di quello che pensava di chi era faccio a volte mi capita di fare questi ragionamenti un po un po creepy quando vado per strada cioè abbiamo il caso il risolto in italia di simonetta cesaroni a roma via poma e dico chissà se quella persona che sto incontrando che magari boh al semaforo si scambiano due parole oppure il negoziante che mi dà la mano così non è l'assassino di questa persona e magari se non verrà scoperto mai nessuno saprà che quell'uomo ammazzato una donna e anche quello è un elemento ovviamente si spera che nella maggior parte delle persone non abbia questi aspetti però è un elemento interessante dell'identità dei lati oscuri o dei lati anche benevoli perché adesso uno si sofferma sulle aspetti negativi ma ci possono essere anche dei lati molto umani che non sono mai emersi in delle persone che verranno ricordate come tears e come c'è c'è un c'è un app che è quella c'è più di una per scrivere il diario il proprio diario personale online se l'intelligenza artificiale va a beccare pure quello lì proprio infatti c'è a meno che questo non l'ha detto neanche al diario che ha ucciso qualcuno c'è lì veramente difficile no ma è interessante questo perché sulla multidentità beh sono completamente d'accordo anzi sorrido sempre quando tipo non lo guardo mai però ogni tanto vedo su blog quelli del grande fratello che sempre dicono ma perché tu hai doppia faccia doppia solo due cioè nel senso è normale avere la doppia faccia tripla faccia chiunque abbia studiato un po di psicologia sa che anzi è uno strumento importante quello di saper utilizzare le proprie sub personalità e non esserne poi magari schiavo ma comunque anzi normalmente le persone più intelligenti sono quelle che sanno domare le proprie sub personalità e sono d'accordo ma hai parlato di scuola di che cosa insegni esattamente ma io diciamo che il tanato lì la cosa del tanatologo si lega alla alla mia professione alla mia formazione filosofica e tengo adesso nel corso degli anni tengo soprattutto dei laboratori di cultura di realtà aumentata di culture cyborg e poi insegno in ambito di antropologia filosofica filosofia ed etica della cura tutti i ambiti che comunque permettono di richiamare in causa il tema il tema della morte e in relazione con le innovazioni tecnologiche e come reagiscono le persone a ai tuoi temi dei gioi ragazzi giovani di oggi in l'approccio è sempre interessante perché l'approccio è spaventato all'inizio non sono abituati a questa cosa quindi sono abbastanza presi in contropiede e poi in realtà sono molto molto interessati man mano aumenta l'interesse tendono a fare molte domande intervenire interagire questo è interessante da qualche anno ormai da tanti anni insegno in un master specifico dedicato al tema della morte a padova death studies in the end of life e anche lì è interessante perché ci sono figure di corsisti molto varie ci sono da studenti di filosofia psicologia a persone legate al mondo della chiesa infermieri medici cioè si sta cercando comunque di creare dei percorsi formativi dove la figura del tanatologo tra virgolette smetta di far sorridere come giusto che faccia perché fa sorridere se viene detto così ma diventi veramente un ruolo formativo all'interno degli ospedali nelle circostanze più svariate perché per fare un esempio una cosa ricorrente tutt'oggi e di cui torna il tabù della morte sono che ne so i parenti di una persona sui 90 anni che ha dei problemi di salute che chiedono ai medici di farla sopravvivere a tutti i costi e i medici dicono signori ma ha 90 anni e quindi avere un delle figure che in qualche modo riportano trattano il tema della morte è importante proprio anche per riuscire a svolgere nel modo migliore possibile questo tipo di situazioni relazioni che si vengono a creare oltre a tante altre questioni a caspita che interessante questo quindi chi sono questi corsisti sono persone che poi dopo all'interno di varie strutture andranno a si ad aiutare sia i morenti che i parenti dei morenti il tentativo è quello di creare ci sono già appunto delle professionalizzazioni di questo tipo cioè di fare in modo che ci siano figure che riescano a rendere meno complicato il rapporto medico paziente a formare gli stessi medici perché anche i medici è una cosa che dicono spesso che paradossalmente sanno come curare o cercano di sapere come curare una persona ma sulla morte non sono in grado di agire anche solo sul comunicare la morte che è tutt'oggi un grande problema perché non sai se dirlo se non dirlo al malato ai parenti è molto difficile e quindi queste figure servono proprio per riuscire a rompere un po queste difficoltà che sono tutt'oggi presenti e quali sono le cose capisaldi di un tanatologo cioè come ci si approccia sia io sono il parente di una persona che sta morendo sono qual è l'atteggiamento giù se ci sono dei libri che puoi consigliare le regole che veramente sono importanti da da seguire diciamo che la difficoltà più grande perché poi qui è sempre qui entra proprio in campo il piano soggettivo cioè la capacità di fare aderire dei discorsi di un certo tipo con la persona che hai di fronte perché di nuovo è una società non educata alla propria mortalità è molto difficile riuscire ad avere un diciamo un comportamento standard il tentativo è quello appunto di riuscire sulla base della comprensione ecco perché spesso chi fa parte di questi corsi sono gli psicologi o degli studenti di psicologia e quello di riuscire a inserirsi nella comprensione dell'altro delle caratteristiche dell'altro di conseguenza creare a seconda la modalità comunicativa migliore diciamo che l'aspetto più su cui si sta cercando di lavorare di più che anche un appoggio statale perché oggi comunque le leggi dovrebbero in certo qual modo dovrebbero spingere il medico a dare la triste notizia fare in modo che il paziente sia informato e il lavoro più grande è quello di fare in modo che appunto il paziente voglia essere informato e che i parenti vogliano che il paziente sia informato quindi è difficile darti una risposta appunto dei punti chiave il lavoro che viene fatto formativo è quello di creare tutta una serie di di fornire tutta una serie di elementi di natura filosofica antropologica psicologica pedagogica in modo tale che poi quella figura sappia captare la singola situazione sappia interagire nel miglior modo possibile tenendo conto poi che ci sono tantissimi problemi legati alle eredità alla gestione delle eredità oggi a differenza di un tempo si organizzano molto meno l'eredità e anche questo è un problema perché poi si creano delle dei forti disagi anche di tipo economico ma di tipo pratico in senso lato ci sono tutti i problemi dell'accanimento terapeutico tutti i problemi che conosciamo di un ambito bioetico e anche lì è molto difficile riuscire lavorare fare in modo di creare la situazione migliore possibile se poi teniamo conto e su questo anche si cerca di creare dei percorsi per questo dicevo di antropologici viviamo in delle multiculture quindi quello che vale per una persona occidentale non vale per una persona che è proveniente dall'asia o da un certo paese dell'africa quindi anche quella è una grande difficoltà su cui solitamente lo stato non è molto attento e quindi questi corsi mirano a generare delle competenze molto ampie per cui si crei questo figo questa figura capace di interagire nelle varie situazioni ma il substrato è totalmente laico secolarizzato o c'è un un ambizione di spiritualità di divisione verso una vita dopo la morte allora io parlo da una prospettiva io sono molto laico io non sono credente e quindi posso dire che trovo in questo ambito molto diversificato perché comunque non siamo tanti a svolgere attività tanatologica però non siamo neanche poi così pochi sono distribuiti in italia prevalentemente donne anche questo interessante che sono figure beh tradizionalmente era così cioè questo un po è rimasto e secondo me i due piani vanno quasi a pari passo con una prevalenza diciamo più laica su quella religiosa cioè ho l'impressione che l'elemento per esempio di aiuto spirituale di tener conto anche del delle esigenze dei credenti c'è però la figura in qualche modo del tanatologo si discosta da quelli che poi sono sempre stati coloro che si sono presi completamente il campo della morte che sono le religioni riconosciute quindi la figura del tanatologo è vista un po come un usurpatore di un prerogativa esclusiva e quindi ecco secondo me siamo su un piano più laico poi si può anche parlare questo io lo faccio io per primo chi lavora in quell'ambito il rispetto di tutte quelle elementi della spiritualità o comunque della le esigenze spirituali del singolo cioè non non c'è soltanto un tentativo di laicizzare completamente quella sfera anzi è fondamentale anche tener conto delle esigenze appunto di chi crede in un post mortem di un certo tipo chi ha delle esigenze comunque di natura di natura religiosa diciamo che il lavoro laico è prevalente anche sul piano per esempio dei cimi del delle riti funebri oggi si sta cercando di dare molte più alternative a dei percorsi prestabiliti perché la società che che se ne dilegga sui giornali sempre più secolarizzata e sono sempre meno le persone che avrebbero voluto un funerale comunque religioso in certe parti dell'italia la laicizzazione del rito è più semplice soprattutto al nord in altre zone più difficile ad esempio c'è un insomma non mi ricordo il nome c'è un un inglese che si è trasferito in sicilia anche scritto un libro sui funerali laici che fa quello di lavoro cioè aiutare le persone soprattutto dei paesi piccoli siciliani ad avere dei funerali laici di contro a una società che cerca di non offrire quell'opportunità e anche questo è un problema che può creare dolore perché per esempio se non si rispetta l'esigenza di un di quello che poi è morto questo genera più dolore in chi rimane che magari pensa di non aver rispettato delle esigenze molto molto delicata questa cosa molto interessante effettivamente cioè ti immagini il pucca che muore a san severo te fanno ma io ho già organizzato con mia sorella secondo me esce dalla barra io ho detto voglio shine on a crazy diamond e no no ne abbiamo parlato infatti no no è incredibile ma oltre a questo tu hai anche effettuato accompagnamento alla morte hai seguito persone morenti hai questa esperienza è obbligatorio farlo in questo master no ma è una domanda che mi è stata fatta abbastanza spesso io per ora no perché ho un po di ritoriosia io comunque sono un teorico tra virgolette vengo dal campo umanistico e non vorrei appunto non avere la preparazione che secondo me le altre figure professionali hanno di più quindi secondo me è più giusto che le mie attività siano più legate a un livello a un altro livello quindi sicuramente nei confronti delle persone che hanno patito un lutto quindi collaboro con associazioni che si occupano di elaborazione del lutto e sul piano di legato alla presa di coscienza della propria mortalità al di fuori di quel contesto ho collaborato e collaboro con delle associazioni incredibili ce n'è una carpi che si chiama 0k di pagliativisti che cercano di portare la cultura delle cure pagliative in giro per l'italia attraverso spettacoli e cose di questo tipo e abbiamo anche pensato di farmi mi hanno anche volte proposto pensato di portarmi proprio in quell'ambito però poi ci abbiamo riflettuto e secondo me è giusto tenere una differenza di ruoli per cui l'infermiere pagliativista formato è giusto che abbia più sia più lui vicino a quel tipo di persone e chi ha una formazione più teorico umanistica svolga un altro tipo di percorso per ora mi sembra la cosa più onesta poi vedremo nel corso del tempo e penso che ci debba essere una vocazione per fare quel lavoro lì cioè deve essere una cosa che quasi istintuale no che si viene non riesco a immaginare una cosa c'era battiato che ad esempio lui che amico di gudalberto bormolini era amico di e sarà sempre amico di gudalberto bormolini perché ci crede ha iniziato anche lui a seguire a fare questo supporto intorno al suo paese lui era di della provincia di catania milo e andava e quando moriva qualcuno me l'hanno detto questo dei miei amici amici in comune che avevamo quando c'era qualcuno che moriva nei paesi di fianco alla sua villa lo chiamavano perché lui negli ultimi periodi della sua vita prima che si ammalasse gli piaceva fare questa cosa cioè accompagnare alla morte le persone che penso deve deve essere veramente qualcosa di tosto da tanto quanto è l'impatto tanto quanto sicuramente ti dà tanto quanto ti ti porta a vivere un'esperienza intensa no sì anche perché immagino già occuparsene adesso prima si scherzava si rideva ma comunque già la scelta di occuparsi di questo tema non è facilissima a livello a livello comunque emotivo e psicologico ma poi di fatto e passo le mie giornate a pensare a quello e di conseguenza quello è già di non è facilissimo poi ancora di più la pandemia secondo me ha aggravato un po le difficoltà di occuparsi di questo tempo e chi appunto agisce poi in quel modo ovviamente può avere delle anche delle difficoltà di natura psicologica io conosco io so che tutti quelli che lavorano proprio più a contatto sono quasi obbligati ad avere ad andare da psicologo comunque avere delle sedute psicologiche proprio per riuscire a mantenere un equilibrio ho un caro amico che ha scritto tra l'altro anche un libro in ambito letterario finalista al campiello che usa un uno pseudonimo adezzeno che lui di lavoro fa il cerimoniere al monumentale di torino e comunque il cerimoniere sono 20 25 funerali al giorno e comunque stare 20 25 persone che urlano che gridano che si disperano che piangono ma cosa fa un cerimoniere di fatto legge poesie allora oppure parla lui stesso dei discorsi sulla base delle indicazioni dei parenti o legge dei testi che i parenti hanno scritto per i funerali laici quindi gestisce quel lato di quella ma per forza cioè tanto quanto fa non è sano dimenticarsi vivere una vita totalmente avulsa dalla sua finitezza al contempo immagino che vivere completamente immersi in un'altra sfera di morte non è che sia proprio l'ideale no anche perché poi sai fino a quando si tratta di celebrare funerali di persone molto anziane c'è scatta quel meccanismo psicologico e dice vabbè tanto adatto ma quando ti ritrovi i bambini le persone giovani le morti violente poi con la pandemia questa cosa c'è stata un'accelerazione pazzesca ecco quello diventa la pandemia i morti ci sono stati sono stati ma basta guardare il sito dell'istat basta guardare le morti nelle città che sono state molto colpite io anche guardato fano la mia città c'è proprio una curva che a marzo 2020 si impenna c'è proprio io leggendo su facebook dice gente diceva che non era vero che c'è bella che citano proprio il sito dell'istat quelli che rompono le palle sì perché c'era una sorta di fotomontaggio prendendo due dati separati le solite manipolazioni però se uno va proprio sito istat vede proprio quindi non è che ci volevano controllare con lo lockdown poi chiaro non c'è non è che è stata una strage di proporzioni bibliche però è perché c'è perché non c'erano le restrizioni per ricevere mi veniva in mente su questa cosa per ricevere messaggi minatori e di morte eccetera mi viene da dire che non c'era nessun morto per il covid ce ne sono stati tantissimi per i vaccini esatte sono persone veramente incredibile io credo che vabbè io ho un cugino che lavora come medico all'ospedale e mi scriveva delle robe terribili c'è mi diceva davide io non ho mai visto cosa del genere mi dispiace dirlo ma non sappiamo più dove mettere i morti c'è questo mi diceva all'ospedale qua di lui tra l'altro per opera san donato a me legnano quindi vicino dove ci fu diciamo l'epicentro no della dell'inizio della pandemia che lì è stato momento più difficile e lì effettivamente poi c'è stato tutto il tema della gente che non poteva più vedere i morti cioè ti moriva il papà la mamma la sorella e non ecco la mancanza di un rituale perché anche lì non si potevano fare i funerali giusto pazzesco ma di un addio anche cioè proprio di essere presente negli ultimi giorni sì c'erano questi video di questi signori mamma mia da piangere solo pensarci che stavano morendo con i caschi e questi volontari infermieri li collegavano con l'ipad della roba la cosa interessante di quella di quella fase lì e sui riti e io mi ricordo che quando ho scritto il libro la morte si fa social e parlavo dei funerali in streaming nel 2018 19 quando andavo parlando in giro mi guardavano dire ma questo cosa dice è deficiente e funerali in streaming sono stati un po una specie di ancora di salvataggio in quella fase dove non potendo svolgere il rituale in presenza hanno almeno messo una toppa e anche lì sono nata tutta una serie ho provato un po' indagare in tutto il mondo è molto interessante io una cosa che dico spesso ad esempio in ghana dove ci sono dei riti funebri molto lunghi che durano 7 10 giorni coinvolgono centinaia di persone hanno dovuto fare ovviamente il rito da casa tramite il computer ed uscivano sugli articoli sui giornali in cui i giornalisti dicevano tutto sommato stare in pigiama davanti al computer invece dover mettere il vestito costoso non è neanche questa cosa e questo mi aveva fatto comunque sorridere anche il tentativo di dare comunque un tempo di dare una chiave di lettura positiva a questa specie di sospensione del rito a questa alternativa tecnologica che almeno ha messo una toppa rispetto ad epoche in cui non si sarebbe potuto fare nulla ma che tra l'altro hai citato il ghana che mi è venuto in mente quel video famosissimo coffin dance che cos'è che non lo conosco che ha avuto un che è un modo di celebrare ganese non penso che sia nazionale però c'è questa agenzia che fa questi questi funerali coreografici amiche è proprio stiamo vedendo su youtube come lo possono trovare le persone su sport da cercare coffin dance comunque era un meme assurdo un meme con una musica tecno euro dance qualcosa è incredibile sì perché bellissimo beh cazzo è interessante la devo dire la barra specchio non è male ma è tipo incredibile tipo gli anglosassoni fanno questi funerali dove alla fine si ubriacano tutti festeggiano incredibile da noi impensabile questa cosa guarda come cambia la cultura della morte credibile io ho parlato una volta con un docente con un docente irlandese in cui lui proprio diceva una cosa ma per noi funerali feste eccetera tanto noi ci ubriacchiamo sempre e devo dire in questo meno allegro più triste purtroppo qualche anno fa è morto uno dei miei più cari amici proprio un lungo tumore eccetera e la cosa che è stata molto bella è stato che insieme ad altri amici una volta finito il funerale abbiamo preso i genitori e siamo andati tipo al pub dietro alla chiesa abbiamo passato il pomeriggio a bere insieme era una circostanza anche da un certo punto di vista dovuta perché non era un lutto improvviso era un lutto che seguiva una lunga malattia quindi comunque i genitori hanno vissuto e anche noi amici abbiamo vissuto queste lunghe fasi di due o tre anni però devo dire che nella cosa alternativa che è stata fatta è stato veramente un funerale liberatorio perché è quasi come aver dato sfogo a questo al dolore provato dicendo ma almeno trasformiamolo in una specie di festa in suo onore lui sarebbe stato contento sicuramente visto la tipologia della persona eravamo tutti lì a bere e anche i genitori si ricordano come hanno vissuto i genitori molto bene erano molto contenti di questa cosa qua perché l'hanno vista cosa uno come una forma di leggerezza in una situazione ovviamente l'altro giorno vi sono sempre su internet che se c'è questa tizia che era malata anche lei sapeva che sarebbe morta di lì a poco e aveva organizzato un flash mob durante il suo l'hai visto durante il suo funerale pazzesco c'è una roba hanno fatto un mega balletto bellissimo e la gente ecco io ho fatto una cosa del genere nel senso quando è morto mio papà non era assolutamente previsto si sapeva doveva morire che era un tumore è morto molto velocemente bruciato in due mesi e però poi ci vogliono due giorni prima del funerale del funerale due tre giorni e la notte prima del funerale mi è venuta voglia di scrivere un testo io così riesco a lavorare scrivo e mi piace ma non so perché mi è venuta minuto proprio spontaneo scritto un lungo testo e aveva un po il mio tono voice come si dice quindi era anche un po gogliardico nel senso tiravo fuori delle robe c'erano delle battute e non so se c'è non è una cosa che si usa tanto poi il prete mi ha guardato un po come dire forse un po too much davide però per me è stato spontanea questa cosa e mia madre mi ha detto a me non farlo no in italia non si può scherzare sulla morte in nessun modo non siamo a nessun a nessuno stadio mentre in inghilterra i monty python facevano solo battute orribili sulla morte una cosa che e poi dopo al funerale di uno di loro hanno fatto veramente hanno detto delle cose assolutamente atroci che sono impensabili da noi io mi ricordo al funerale di mio nonno il prete in pratica ha ricordato mio nonno ma parlava di mio padre il mio padre è stato a tutto il tempo si toccava e noi cazzo non ci tenevamo anche afterlife di gervais che ha un approccio assolutamente ironico sarcastico ma in fondo ti ripeto secondo me non è superficialità quella di riuscire a ridere sulla morte cioè secondo me è anzi liberatorio e positivo non lo so io sono uno che ride molto pensare alla propria morte cioè nel senso se è anche per l'idea che se gli altri ironizzassero la mia morte ma sarei felicissimo molto di più rispetto al pianto disperato quell'atteggiamento cupo o se bevessero alla appunto al mio ricordo sarei molto più felice pensare appunto allegre che si bevono che si bevono un po di birra cioè si poi c'è tipo io ho usato un tono voice ambivalente nel senso che c'era molto rispetto cioè non ho utilizzato l'evento per cibare ancora una volta il mio ego per avere per l'ennesima volta un microfono e un pubblico hai cantato anche non era quello è che anzi è proprio mi è venuto questo testo spontaneo dovevo farlo cioè non so come dire ne sentivo l'esigenza per colmare c'è per per rendere rispetto e onore mio papà cioè perché mio papà era una persona molto introversa e pochi no pochi secondo me tanti hanno imparato a conoscerlo e se le persone molto introverse poi quando muoiono dici cazzo quante robe che è giusto che vengano sotto sottolineate perché magari loro stessi non sono stati bravi tra virgolette a vendersi no cioè mio papà era uno che è il contrario di me cioè io faccio un passo e ne vendo dieci capito lui faceva dieci e sembrava che ne aveva fatto uno ma solo chi lo osservava nel dettaglio e lo seguiva capiva che no caspita quello che aveva fatto era una roba grossa una roba figa e quindi rendere giustizia a una vita che è sempre stata vissuta in sottrazione in understatement e per quello che poi mia mamma mi ha detto non so se tuo papà era contento che tutto sto spottone che gli hai fatto però boh io credo di sì dai ma in fondo c'è lo si fa anche per se stessi anzi lo si fa per se stessi oltretutto in quanto figlio di quella persona c'è se anche questa cosa di c'è sì formalmente lo si fa per il morto per il esatto esatto in realtà cavolo quello lì è un palcoscenico per chi subisce l'uso infatti la stessa cosa che penserei esatto se io mi identifico in me cioè il mio papà tipo io muoio mio figlio fa una roba del genere non è che cazzo me lo so che lo sta facendo per lui perché lui ci sono lì tutti vivi ma io oramai sono un'entità smaterializzata cioè come posso provare qualsiasi emozioni cioè se c'era se no non c'è più e sto parlando proprio c'è una teoria psicologica alternativa a quella diciamo predominante quella più freudiana che è quella dei continui in bonds che si basa proprio sul fatto dei legami che continuano cioè l'idea che i vivi debbano comunicare per iscritto fondamentalmente con i morti proprio per tirar fuori e questo poi tra l'altro si collega in parte con i bisogni tecnologici del rapporto col morto un prolungo a un certo punto di vista quella cosa prolunga questo bisogno del vivo di riempire uno spazio diventato vuoto oltre al fatto che poi va beh sente anche qui un campo sterminato nella nostra cultura non solo nella nostra natura del dell'idea dello spettro del fantasma in fondo da sempre si dice che il morto e l'incarnazione della presenza di un assente cioè c'è una dialettica di presenza e assenza del morto accanto ai vivi che condiziona poi tutta la vita anche in chi è molto bravo a elaborare il lutto e di conseguenza poi il morto con questa diciamo duplice funzione presente assente diventa una forma di figura fantasmica spettrale e di conseguenza la comunicazione fa in modo mettiamola così fa in modo che chi rimane vi invita abbia accanto a sé il fantasma e non lo spettro cioè bellissimo positiva e non come toccato un tema veramente interessante cioè a chi ha secondo me io io non sono una persona che ha un'inclinazione più spirituale magari rispetto a te ma chi ha un atteggiamento aperto e e favorevolmente ispirato al mistero non ha bisogno di alexa in effetti se ci pensi è la stessa cosa di tinder e incontrare una persona vera oppure il sesso virtuale oppure andare in ufficio lavorare con zoom no forse addirittura questi strumenti questi dispositivi di appunto prolungamento della vita di un morto ma fatti attraverso la tecnologia potrebbero addirittura rovinare una cosa meravigliosa commovente stupenda che io ho avuto e tutti quanti che hanno avuto un lutto sanno di cosa parlo perché la presenza di quella persona o di un fantasma o comunque di un tulpa come dicono i tibetani cioè di qualcosa che non voglio neanche definire lo senti che c'è io tutte le volte ho avuto dei problemi delle situazioni drammatiche della mia vita gli avi li senti non so se è una cosa psicologica probabilmente può è una cosa spiegare che ha a che fare con il comportamento del cervello però non me ne frega io li senti e non è un caso che infatti le popolazioni meno digitalizzate meno avanzate tecnologicamente hanno il culto degli avi c'è il culto di a perché li sentono è come quando una volta vedevamo le stelle perché non c'era l'inquinamento luminoso giusto si inquinamento luminoso adesso con le luci non vediamo più le stelle quindi siamo molto più impauriti e più smarriti perché non ci sentiamo più parte di qualcosa di enorme allo stesso modo queste maniere queste tecnologie potrebbero addirittura bloccare questo meraviglioso rapporto misterico che c'è che io ho nei sogni con mio papà che ho quando ho avuto delle crisi che ho quando dei momenti di felicità ci sono io li sento lo sento e lo si anche quando dei successi mi è successo recentemente ho fatto un evento durante 1.400 persone era lì con me sul palco e quella roba lì secondo me se la pornografizzi con un alexa rischia di fatto è che questa cosa quest'ultima cosa che dicevi mi è capitato un qualche tempo fa una una studentessa che mi aveva chiesto se era patologico secondo me il fatto che l'era morto il fidanzato e che continuava a scrivergli su whatsapp dopo che si è laureata la prima cosa che ha fatto è andare su whatsapp a mandargli un messaggio e questo di fatto è un prolungamento e un quello si è un uso tecnologico di un comportamento umano quello per dire lei non si aspettava ovviamente la doppia spunta blu era una forma di comunicazione o comunque quando è stata inventata la fotografia anche quella fotografia è stata un'invenzione che ha catturato il fantasma del morto non a caso anzi a fine ottocento c'erano dei fotografi che poi ovviamente denunciati che facevano che fondamentalmente si inventavano la foto con il fantasma del morto riuscivano a utilizzare delle tecniche che sembrava che ci fosse il fantasma e quello è un modo in fondo è l'uso della tecnologia per far emergere un aspetto umano che c'è sempre stato la comunicazione attiva e quindi il fatto della risposta quello è si va in un'altra direzione che sicuramente più problematica perché elimina il fantasma in quel senso forse lo trasforma veramente uno nello spettro infestante cioè lo spettro che in inglese di solito si fa si dice mark fisher lo ripete spesso a sta cosa del del termine aunt che sta a indicare sia la scena domestica sia ciò che la infesta e che la difficoltà umana sta proprio nel fare in modo che rimanga l'elemento domestico senza l'infestazione può darsi che strumenti di comunicazione attiva facciano invece emergere il più l'infestazione che la scena domestica interessante ci sta tra l'altro tu l'hai scritto su instagram quando hai visto la casa di cantante le sinces che si è ritirato tipo per due anni chiuso dentro nel suo appartamento a suicidandosi di eroina e si domandava chissà che chi sia chi abita lì se si rende conto di cosa è passato fra quelle mura anche perché guarda in quel quello è una cosa che mi è piaciuto sottolinearla perché mentre per dire alla casa di carcobain si trova una zona bellissima appunto vicino al lago lake washington una zona residenziale anche altri morti della scena si trovano in dei quartieri comunque molto solari per quanto possa essere si atto una città solare quella casa fu scelta dicono perché c'era era vicino a un pub di spacciatori e quindi fondamentalmente aveva gli spacciatori sotto casa ed è una zona orribile cioè vicino a questo corso anonimo e vicino a un accordo autostradale dove oggi ci sono vagonati di persone che si fanno di fentanyl e appunto si fanno di crack e quindi andando in quella verso accevedere questa casa tra l'altro era quasi sera dava proprio questa idea la mia compagna diceva infatti mi fa vabbè abbiamo visto sta cosa adesso andiamocene via si sentiva si percepiva proprio questa sensazione veramente drammatica quello è forse stato il contesto del ricordo più in cui emergeva di più questa questo malessere ma oltretutto lui se n'era andata male mi sembra per un lutto no per la morte di una o compagna o un'amica cara sì sì la fidanzata che l'hai morta e da lì lui proprio è andato in devastazione totale in questo punto in questa casa poi su youtube si vedono gli interni ed era comunque una casa bellissima perché molto grande però dall'esterno il palazzo è anonimo ed è in quartiere veramente in un punto più che un quartiere un punto della città veramente oscuro chissà quello magari era un modo di fare un eutanasia un autoetanasia di una persona non malata a proposito di eutanasia come la vedi quanto tempo ci vorrà in italia prima che si potrà fare come si fa in svizzera no perché quello è veramente una priorità e nessuno ne parla nessuno ne parla da tranne coscioni veramente pochi secondo me ha fatto che scusa capato fondazione a coscioni infatti sì secondo me ce ne vorrà tanto veramente io sono dell'idea ma i cittadini sono più preparati del regovernante si fanno un referendum secondo me vince sì però lì è proprio la politica cioè la tralcio per tanto tanto tempo secondo me secondo me anche mi ricordo con il caso englaro no c'era stata questa queste grida in parlamento di mi sembra quagliariello no che riva assassini assassini incredibile quella è una roba incredibile cioè c'è morto anche pannella che non si è verificata la un suo sogno boh mi sembra una cosa incredibile cioè il fatto che una persona non abbia finché a lucidità la possibilità di decidere non abbia diritto non so come direi è una doppia tortura c'è quale meschinità puoi provare una persona che già sai che è una condizione peggiore che possa essere ipotizzata non gli permetti neanche di esercitare il proprio libero arbitrio per cessare una condizione che lui stesso non vuole più ma anche perché secondo me adesso non ho statistiche alla mano però ogni volta che viene fuori l'argomento io sono convinto che gli stessi credenti cittadini sono in maggioranza favorevoli per se stessi perché poi un conto è l'ideologia ma quando poi sono cose che toccano la tua vita personale le ideologie diciamo vengono meno e di conseguenza è proprio un problema politico sono tutti razzisti poi dopo però quando ti serve la badante non sei più razzista o vai a trans brasiliani eccetera oppure no è così e poi magari va in svizzera dici in italia no ma lo vado a fare in svizzera quando ti tocca a te no è così ma sì sì ma appunto anche sull'aspetto del razzismo a me ha sempre fatto sorridere che appunto una delle due nonne e piemontese doc negli anni quindi 60 così aveva l'atteggiamento di repulsione da chi arrivava dal sud salvo poi che però avesse aveva l'amica conosciuta che appunto era siciliana o campana quella anno ma quelle diverso perché perché era l'amica però poi quando parlava in senso generale le peggio cose noi siamo un po così nel senso che a livello generale abbiamo spesso delle idee che non necessariamente corrispondono a quelle poi individuali nel piccolo circolo che poi non è razzismo è ignoranza cioè appunto se ignorante finché non tocchi da vicino la cosa e allora prendi consapevolezza del fatto che si 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 è più ignoranza invece davide prossimi progetti prossimi testi prossime avventure adesso vabbè a settembre uscirà un libro per il mulino che riguarda più generale si intitola i confini dell'umano ed è mostra come le tecnologie stanno modificando proprio il nostro rapporto con i nostri confini oltre la pelle quindi è un testo diciamo un po riassuntivo che fa un po il punto della situazione rispetto alle cose più specifiche di come mi sono occupato fino di cui mi sono occupato fino ad ora e poi nel 2024 dovrebbe uscire devo scriverlo adesso un librettino dove presento un fenomeno diverso curioso per per inaudi che sui virtual influencer cioè sulle persone che non esistono ma che creano appunto ti devo mettere in contatto con un amico che ha creato la prima virtual influenza l'italiano a nefele quella che si chiama nefele credo di sì credo di sì l'hai già studiata un po visto che ce n'è una in italia sono uscito a cena con lui qualche settimana fa interessante ma io sono totalmente convinto e sarà finalmente la fine di chiara ferragno no più che altro poverina io le voglio bere però il fatto che se puoi essere replicata anche tu da un'intelligenza artificiale tu crei che possa accadere questa cosa è un fenomeno appunto nuovo nuovo perché scusa mi viene in mente tutte quelle che sono su holly fans no che tanto pensano a sì io sono libera perché sono soli fans è vero è vero fallo se lo senti non c'è problema ma sappi che se vuoi veramente monetizzare un business come un altro sappiamo benissimo che ci sono delle agenzie che si occupano di gestire i rapporti di queste influencer chiamiamole di only fans con i clienti che quindi è impossibile che una donna sola possa gestire 20 30 50 500 mille persone in simultanea dannogli dei contenuti privati è evidente che c'è una persona un team di ghost writers che scrive per il nome di questa di questa creator e quindi la normale traslazione di questo è la direttamente l'influencer virtuale secondo me si è un fenomeno ma poi è un fenomeno che tocca poi ripeto io da filosofa guardo più da filosofa c'è un collegamento un po con le cose degli spettri digitali questo interesse che le persone hanno per io questo libro intitolato adesso appunto momentaneamente l'amico immaginario però appunto per il non esistente perché la cosa più interessante di questo fenomeno secondo me per quello che finora ho visto e che dichiarano esplicitamente che sono intelligenze artificiali cioè non fanno finta di essere anzi ci sono dei casi in cui chi ha fatto finta poi gli hanno fatto delle shitstorm contro perché i clienti le persone che seguono i fans non vogliono l'essere umano vogliono e sono consapevoli che sono finti e questo è l'aspetto che trovo più interessante su un piano così d'impatto e c'è anche una una band coreana virtuale no che ormai ha dei fan sfegatati che ma ragazzi ma che è la normale evoluzione perché take that non erano una band virtuale sì ma da musicista cioè noi l'abbiamo visto siamo passati dai veri musicisti a questi cantanti anche attuali contemporanei che non non sono più quasi mai nati dal cuore dallo struggimento dalle tormento nel caso del grange di un artista ma da un lavoro uguale a quello che si fa quando si fa una start up ok analisi di mercato cosa fa oggi oppure qual è la nostra come possiamo differenziare la nostra offerta secondo me serve questo il trend di oggi sono questo quindi prendiamo una bionda una ricca una sportiva e siamo finita rantino sai che lui mette tutti i personaggi boom però lì c'era carne e ossa però è un attimo fare in italia avevano fatto le lollipop che state costruite guarda quando finirà poi vedremo la sfumatura no dalla reale al virtuale questa è stata l'ibrido come le macchine elettriche quella lì sì però qui fa specie che queste qui sono dei personaggi che poi hanno una vita social cioè che condividono quello che fanno no a oggi sono cioè quello fa specie no che poi la gente è consapevole però è fan di quel personaggio virtuale lì e addirittura e a questo si aggiunge un altro fenomeno che anche questo mi ha stupito oltre al fenomeno proprio virtuale su tiktok ci sono quelli che vengono definiti i fictional influencer cioè persone in carne ed ossa che recitano delle vite che non sono le loro sulla base dell'interesse è come se non lo so che ne so chiamiamola chiara rossi che fa finta di essere la ferragni e la gente sa che non è la ferragni che sta recitando un ruolo perché di nuovo non non è un imbroglio è una sì e quindi siamo oltre un meccanismo psicologico un gioco di specchi viviamo veramente un'epoca veramente di smarrimento di parenti complessa veramente complessa questi specchi da un lato anche affascinante perché c'è il caos ha raggiunto dei livelli veramente i per per trofici e la norma quindi come mai ma vuoi scrivere questo libro perché hai già visto che ci sono delle 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 influencer virtuali che stanno avendo successo e quindi ti ha incuriosito vuoi approfondire gli studi quindi fare un lavoro di studio sì e poi di dire diciamo riflessione anche che la cosa che a mente era stato sì innanzitutto ho visto che hanno molto successo si dice che tra l'altro nel giro di pochi anni vediamo se è vero ci sarà un investimento milionario se non miliardario dal esempio le case di moda e poi appunto per quanto sia un tema un po distante dalle cose di cui mi occupo lo è fino a un certo punto perché in fondo la riproposizione virtuale del morto rientra di nuovo all'interno di una dimensione di recita cioè tu sai che la riproduzione virtuale del tuo compagno di tuo padre eccetera è una riproduzione virtuale è vero che lì c'è un legame però intanto si sta giocando all'interno di una di una recita in cui quella persona non esiste più e quindi e trovo interessante questo che il collegamento nasce dal fatto che comunque anche in vita le persone hanno bisogno delle di dei non esistenti cioè di entrare e questa cosa ripeto è ma secondo te quale può essere la ragione perché io ad esempio non riesco proprio a comprenderla cioè io non perché ogni fans è un po quello cioè si basa un po su quello ti faccio un esempio di volgarizzo tutto scusami però abbasso tutto se vuoto tu fai alto io faccio basso il più famoso maschio su only fans l'ho sentito intervistato online cioè eterosessuale ma scusate il francesismo fa pompini e suoi amici su only fans a pagamento piuttosto che bruciarsi i peli dei testicoli con l'accendino a parte bruciarsi per il testico certo però diventa omosessuale per i propri fan omosessuali che glielo richiedono è incredibile questo cioè non so come dire però mi veniva in mente pensavo banalmente al cinema al film cioè effettivamente io guardo un film che mi coinvolge tanto e mi segna io comunque sia partecipo a una finzione totale cioè quella teoria lì è un'altra persona fa altro magari è morto eppure c'è il meccanismo poi è quello lì è se ci pensiamo ma adesso appunto sempre sulle cose più pop mi veniva in mente adesso io credo che il meccanismo sia quello mi è venuto in mente di aver letto qualche tempo fa un'intervista ad alessandra mastronardi l'attrice dei cesaroni che diceva che per anni fondamentalmente la gente la fermava e la chiamava col nome della protagonista e quindi c'era la proiezione su questa attrice di questo ruolo in un'epoca che adesso i cesaroni è passato un po di tempo però mi ricordo che era una serie tv che aveva avuto un successo strepitoso che la gente andava a roma apposta a cercare i luoghi di quella serie e quindi secondo me il meccanismo più o meno quello probabilmente è un meccanismo forse anche un po potremmo dire amaro malinconico nel senso che soprattutto persone che non hanno delle vite particolarmente ricche proiettano su delle su dei ruoli recitati quindi comunque su delle forme di perfezione a cui ambiscono quello a cui gli ma che gli manca secondo me quello non è l'unico aspetto però è sicuramente un aspetto predominante quello di trovare insoddisfacente il quotidiano e quindi aver bisogno dell'idealizzazione e queste forme di teatralizzazione di personaggi di vite in qualche modo rispondono a queste esigenze quindi è un ruolo di in fondo adesso a pensarci capita spesso che veramente le persone hanno bisogno di dire di recitare sempre delle cose che non sono vere adesso mi veniva in mente con la pandemia ma pensiamo quel andrà tutto bene quel è stato ripetuto all'infinito ma se sapevamo tutti che non stava andando bene che non andava bene però c'era questo bisogno di dirsi anche nei film una delle cose classiche dice andrà tutto bene e sai che hai già capito sei fottuto esatto gli americani lo usano tutti i morti dio ci aiuterà grazie davide io ti ringrazio ti faccio i complimenti per il tuo lavoro non vedo l'ora di leggere i tuoi testi nuovi e se qualcuno volesse seguirti tu hai dei punti di riferimenti digitali sì mi trovano su facebook instagram soprattutto ok twitter twitter anche sì sì bene bene ti ringraziamo e ti diamo appuntamento magari fra qualche periodo quando magari vorrei tornare grazie a voi raccontarci il le tue nuove uscite ciao a tutti questo il bazar atomico seguiteci ciao ciao a a a a a a a a